Sport! Con le mani! A scanso di equivoci mi sono portato qualcosa da casa, non è colpa mia se in Veneto non si trovano più le bandiere del Veneto, le hanno tutte i nostri cittadini nelle loro abitazioni, le faremo di nuove. Lasciatemi chiedere un applauso per i tanti militanti che hanno lavorato per questa pontida, grazie di cuore. Non è facile spiegare a 195.000 Veneti che debbono rassegnarsi alla disoccupazione, non è facile spiegare a un ragazzo su quattro in Veneto sotto i 30 anni che sarà disoccupato e due precari. Ci chiediamo che senso hanno i 100 imprenditori che ci sono suicidati, ci chiediamo cosa sta facendo il governo in queste ore. Sicuramente la risposta non è quella di andare a prendere con l'operazione Mare Nostrum gli immigrati a largo delle nostre isole. Noi in Veneto di posti di lavoro per altri cittadini non ne abbiamo, ci spiace, qualcuno dice che siamo razzisti, ma noi l'abbiamo detto già quattro anni fa, prima il Veneto e quindi prima i posti di lavoro ai Veneti e poi a quelli del resto del mondo. Questa filiera della vergogna che ci porta a dire che recuperiamo cittadini, e il Veneto lo sa, a 500.000 immigrati, molti dei quali si sono integrati bene in Veneto, concorrono alla formazione del nostro prodotto interno lordo. Però è altrettanto vero che le nostre carceri per il 70% hanno immigrati dentro lì. Allora ci chiediamo per quale motivo andare a recuperare ancora i immigrati e fargli credere che da noi c'è il giardino dell'Eden, c'è il Bengodi, invece c'è disoccupazione. Ve lo dico perché nel momento in cui noi andiamo a recuperare quei cittadini, dall'altro sono state diffuse le foto in Siria della crocifissione dei cristiani che girano per la Siria. È questo quello che vogliamo? Il governo ci ha detto che con gli 80 euro risolverà i problemi di tutti. E' bene ricordare che questi 80 euro comunque verranno consegnati solo a quei cittadini che hanno un reddito dagli 8.000 ai 24.000 euro, non li vedranno i pensionati, non li vedranno coloro che hanno meno di 8.000 euro, non li vedranno tanti lavoratori autonomi, molti dei quali sono giovani che si sono dovuti fare una partita IVA per poter lavorare. Io mi chiedo se è vero che gli 80 euro, e lo dico da Veneto, cubano a livello nazionale 6 miliardi e 400 milioni di euro, è altrettanto vero che se avessimo dato 10.000 euro ad ogni nuovo occupato avremmo dato modo a 640.000 giovani di poter lavorare e non di fare queste operazioni elettorali che non porteranno nulla. Però veniamo al Veneto, qualcuno si è scandalizzato perché noi parliamo di indipendenza, parliamo di autonomia, i giornalisti spesso chiedono ma quale sarà questo sentimento? E io dico è un sentimento che lambisce tutte le classi sociali, in Veneto si mastica pane e indipendenza, pane e autonomia. Ed è la volontà di dire che noi ne abbiamo le scatole piene di pagare i conti per gli altri, ne abbiamo le scatole piene di mandare 21 miliardi di tasse ogni anno a Roma e dover dire ai nostri cittadini che devono morire sotto gli allagamenti, che devono non avere risposte per le nostre imprese. Questo è quello che vogliamo dire. Allora la soluzione è una sola, sicuramente non quella di mettere in galera i venetisti perché comunque chiedono l'indipendenza, ma la soluzione è quella... la soluzione è quella che già il nostro consiglio regionale ha previsto, fare un referendum, chiedere ai veneti circa la possibilità di dichiarare l'indipendenza, è quello che stiamo facendo. Quindi la volontà di ricordarvi fino in fondo che in Veneto il percorso è iniziato, un percorso che vuole portare i veneti alle urne, parlare di referendum e ovviamente rendere protagonisti i veneti su questa partita. Abbia il coraggio Renzi di dichiarare che abbiamo mezza Italia fallita, che non ha i conti a posto, dove ci sono 22 mila forestali in Sicilia e noi ne abbiamo 400, dove un pasto in ospedale in quelle regioni viene a costare 60-80 euro contro i 6,5 euro del Veneto, queste sono le cose che non ci piacciono. Il popolo veneto è un popolo pacifico, sa sopportare, conosce il sacrificio, va sull'obiettivo ma poi quando dice basta, è basta. Io vi ringrazio, consegno idealmente questa bandiera a colui comunque che dovrà difendere anche i veneti. caro Matteo, a nome del popolo veneto ti consegno ti consegno 1100 anni di storia della Repubblica Veneta, sappi che il popolo veneto è con te, difendilo fino in fondo. Grazie. Grazie Luca, grazie Veneto! Grazie a tutti!